Ben ritrovati amici avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme, benvenuti sul canale Milo Cloud Gaming ed io ovviamente sono Milo e oggi proverò Solstice sempre giocato con GeForce Now, un titolo che mi ha sempre incuriosito e che quindi ora scoprirò totalmente con voi. E quindi voglio dire, bando alle ciance, premerei subito su Clicca Partita, cioè su Clicca Partita, vabbè, cliccherei subito su Nuova Partita e iniziamo, iniziamo, Nuova Partita. Ah, ma io metterei questa intermedia, dai, ok, che ti metteranno a dura prova, i novizi, insomma, boh, mi sembra una cosa un po' ok, umano, siamo dei paladini siamo. Ok, questi qua sono tutti i robbi da utilizzare, ma tanto spero che ci sia un tutorial e poi vedremo i settaggi grafici, ma ve lo posso dire già da ora, sono praticamente tutti al massimo, quindi di più non possiamo andare. Vediamo per la storia, ma... Chaos could be banished But it could not be destroyed So the keepers weaved a veil with their own essence And stood guard The world was now safe But it was also empty And meaningless Thus the keepers reached beyond the veil They seized the power of Chaos itself They gave it shape and purpose They created life And man was their most perfect creation But all life would eventually hear the call from beyond the veil Thus it happened that alongside life Death also came to the world The great cycle was set in motion Yet chaos hungered for more And sought to undo the keepers' creation The full of chaos struck Wounding the keepers And tearing the veil Endless droves of horrors Trespassed into the world And so came The solstice of souls Hurd and weak The keepers charged man with defending the world They inspired man to fight fire with fire Thorosity with ferocity Driven by the infinite wisdom of the keepers Man turned the very power of chaos against it Through sacrifice and resolve A breed of sacred warriors was created Three were wounds in the essence of the keepers Three the mighty battles fought and won by the champions of man Oh-oh Three the sacred cities that were built in those hallowed places Eventually The solstice of souls was put to an end The three cities still stand to this day For the glory of the keepers While the memory of the sacred warriors has been lost to time But while the mortal body must perish That which is immortal Is bound to be reborn Ok Oh Così, bravio Hello Oh Mi temi la caruccia Questi siamo noi Ah, benissimo Oh Come on Sono noi Come on Do you Si Se Se Si 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 Ora concentriamo su distruggere queste cose. Ok. Vabbè! 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 Quella lì? Ok. Oh, secondo me ci sono già rimanzate. Come stiamo? Oddio, non si capisce niente! L'ho presa alle spalle, Chico. Ok. Via giù, te, via. Dovrebbe essere una specie di tutorial. Ok. Eccolo. Vabbè! Vabbè! Oddio, si è trasformata! Ah, infatti senti, vedi ora? Facciamo gli attacchi diversi. Attiva! Mi sa che si è un po' agitata. Sicuramente la perderemo tutti questi poteri e... Diventeremo delle schiappe! E dobbiamo discutere di tutto. Scammettiamo? Eccola. Eccola. Ecco. pensate. Ora è la prima volta... Ah. Oh, mia Maria! Ricordia! Ok, Solstice. Va bene. campo di esilio attacco primario attacco secondario azione loot salto interazione ok vabbè movimento arma su arma sinistra arma destra uso oggetto campo di evocazione schivata questo sarebbe il campo di evocazione il giorno prima alba mi ha ricordato vagamente baionetta iniziale la notte te lento le sboronate sue le sboronate 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 va bene ah Lute è lei che prima la chiamava ombra tanto vuoi cambiare andiamo a guardare il nostro osservatore deve essere capito di raccontare più di ciò che si traspirò allora lo troveremo più velocemente bello il personaggio, mi piace possiamo rompere qualcosa? allora residuo scarlatto residuo caotico, rosso della breccia sotto forma di polvere residuo cristallo migliore le abilità dei paladini cinerei raccogli e utilizzi questi oggetti per migliorare le abilità di Briar questi sono un po' come le anime e tutto quanto l'ergo eccetera eccetera abbiamo 20 qui c'è l'altro ma la telecamera si gira? ma che? una scelta un po' strana comunque va ah per saltare ok abbiamo già scoperto da noi comunque questo cos'è? qui che c'è? spippoliamo va sempre spippolare qui saldiamo una scelta un po' strana questo questo tipo di telecamera visuale non so come definirla leggi allora città sacra di lanciamo tutto città sacra di di Hilden se no non ci capiamo niente Hilden era una delle tre capitali del sacro regno di Kaidas le sue origini sono ormai perdute e sono solo materia di leggenda come Doran e Reim venne presumibilmente fondata laddove gli eserciti degli uomini combatterono e sconfissero la progenie del caos la progenie del caos alcuni del solstizio delle anime perciò solstice ogni capitale fu dedicata a uno dei tre custodi e Hilden divenne nota come sede della portatrice della fiamma soprannominata città della luce per il carattere gioviale e industrioso dei suoi abitanti divenne il maggior centro commerciale del regno ok distretto portuale dove siamo ora oddio che è successo precedentemente alla costruzione dell'enorme ponte Hildenmer merci e passeggeri dovevano raggiungere la città in barca accolti dalla vista del porto brulicante di Hilden la controparte umana del distretto sarebbe stato un logoro un logoro marinaio con il volto acceso da un sorriso sbilenco e un senso dell'ospitalità chiasso ma genuino nel porto si incontravano genti provenienti da ogni parte di Kedas e da regioni lontani le lontane creando un crocevia tanto interessante quanto sconvolgente laggiù chiunque poteva sentirsi a casa ma nessuno era così sciocco da sentirsi al sicuro no oddio che ho fatto ci sta la storia l'avevo persa vabbè l'avevo persa la storia eccola qua non ci va su storia neanche su bestiario ok allora niente vabbè questi sono gli aiuti il tutorial ok e le abilità non ci va ancora ok e qua ma ci sono indietro allora no scusate non mi credo fare il parkour lì vuoi vedere eh sì eh sì no ah si scende di qua eh vabbè niente eh vabbè niente una certa età doppio salto eh poi ce ne sono altri di là ora è qua ora è qua ora è qua tu pensi ah vabbè però stiamo combattendo delle scatole il che è anche interessante non so perché ho visto qualcosa lampeggiare no quindi di qua va bene questo gioco mi è stato regalato da Epic Games ragazzi lo dico ok ceneri di chimera caduta nella sua ora più buia una chimera può trovare ispirazione nei resti di coloro che l'hanno preceduta se subisci una sconfitta usa questo oggetto per tornare a combattere ok interessante una specie di resurrezione quindi dove vado hello di qua no ok 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 appunto aspettate eh forse ci sono perso qualcosa qui no neanche no va bene allora torniamo indietro sembra strano e qua no allora dove che dobbiamo andare eh no non credo mi faccio a saperlo ma forse devo usare qualcosa cosa ah no qua 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 no ma no forse qui ci sono venuto solo per raccogliere quella roba lo torna indietro ora oh non si capisce oh hello una mappa no neanche no sembra strano allora veramente da là ma non credo ah si ma tu guarda no mi sono perso ecco fatto ecco fatto ecco fatto ok allora tipo di tipo di contrattacco rallentamento Lute è in grado di difendere Briar dalla maggior parte degli attacchi nemici quando vedi l'icona bla 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 premi B per reagire a un colpo in arrivo in arrivo il contrattacco base di Lute è un rallentamento che arresta brevemente il tempo attorno ai nemici per consentire a Briar di spostarsi ed evitare l'attacco perfetto i tuoi riflessi determinano la riuscita dell'azione difensiva di Lute se reagisci troppo lentamente perderai l'opportunità di contrattacco e Briar rimarrà vulnerabile al colpo se invece segui l'azione abbastanza rapidamente seguirai un contrattacco perfetto fa attenzione a non premere B quando nessun nemico ti sta ti sta ti sta ah ecco attaccando rischierai di distrarre Lute che non ti aiuterà nel momento del bisogno che non ti aiuterà che non ti aiuterà che non ti aiuterà ok ok dai diamante dai leggi spezzato gli spettri ottenere informazioni ok quindi più ne uccidiamo e più più ne facciamo fuori e più va bene vabbè questi ragazzi tanto ci tutorial l'abbiamo già visto no? quindi è inutile che ci mettiamo a leggere tutto non è malvagio per primo mi sta piacendo cioè sembra simpatica però vediamo un po' come funziona anche graficamente ci sono questi colori particolari non mi dispiacciono lui incorrotto oddio forse non lo dobbiamo uccidere ma si può salvare la partita? no quindi questo è un casino sicuramente incontreremo dei posti dove si può salvare la partita livellare eccetera eccetera ma bisogna spippolare visto abbiamo trovato il robo lì X per infliggere un colpo pesante ok allora la battaglia in campo aperto possono essere alquanto affollate quando compare il simbolo questo dell'occhio nell'angolo inferiore e destro dello schermo puoi usare R3 per ruotare la telecamera e ottenere una visuale migliore di ciò che ti circonda puoi anche agganciare la telecamera a un nemico ok perfetto puoi cambiare bersaglio e bla 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 per annullare l'aggancio e vabbè sbagliato ok tipo di contratti attacco barriera è possibile contrattaccare la maggior parte degli attacchi corpo a corpo con una barriera la barriera blocca a distanza ravvicinata inflitta da un nemico di classe bassa prima che Briar venga colpita nel corso del viaggio Liut acquisirà l'abilità di parare anche i nemici più potenti ok è quello dell'A-B no? ok dai gli amanti non ho notato l'occhio ah eccolo lì l'occhio l'ho visto ora ok telecamera fissa qui addirittura si vedete non la posso girare si vedete non la posso girare ok di qua allora questa scelta di una telecamera fissa così si può definire boh c'è un po' il tempo che trova con un gioco così però vabbè niente non so perché dai va come su uniera automata quando il gioco diventava proprio a scorrimento pontile costiero oh 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 però non ci fa salvare niente ok vengono da soli bene dove vado sicuramente non di qua da qua oh oh ecco nice strike e Giulia che te lo mena tu quanti allora tipo di contrattacco deviazione è possibile contrattaccare la maggior parte degli attacchi corpo a corpo con una deviazione la deviazione respinge i proiettili lanciati da un nemico di classe bassa prima che Briar venga colpita nel costo del viaggio lui ti acquisirà bene ma e come si usa la oh sbagliato ah no addio diamante peccato peccato scraziatone ah me lo so peccato di nuovo ah lo scomolo da vedere allora polvere di smeraldo residuo caotico verde e la breccia ridotto in polvere serve per ripristinare una minima parte della saluta di un palladino cinario ok puoi tenerla sporadicamente sconfiggendo i nemici platino mannaggia perché mi sono fatto colpine però diamante ah lì va bene e come si usa la cura scusate leggi vabbè picchiere sebbene molti spezzati fossero gente comune alcuni di loro facevano parte della milizia cittadina o di altre armate tra loro si annoveravano i picchieri se da umani imbracciavano la propria labarda unicamente nel combattimento ravvicinato da corrotti hanno acquisito una forza talmente sovrumana da poter usare le picche come proiettili letali va bene e la cura come si usa ah la usa in automatico quando raccogli quella roba ok ok ci pongo ah sfida e il vuoto durante il viaggio ti imbatti in alcuni portali speciali interagendovi potrai affrontare sfide segrete ambientate in un'arena esclusiva fai del tuo meglio e completala con successo per ottenere una ricompensa una volta sbloccata le sfide del vuoto possono essere giocate in qualsiasi momento dal menu principale la vediamo è la prima volta elimina tutti i nemici prima dello scadere del tempo proviamo forse non siamo ancora in grado non abbiamo troppe abilità per farlo ma è interessante ah lì dai ma che ne sappiamo ma questa è l'arena ok ci massacreranno di botte già lo so ok 58 secondi non è non è Grazie a tutti. 10 secondi, ce l'ho fatta? Eh, dai! Peccato che non abbiamo preso il diamante, ma va bene. Tempo, vabbè, scarsi, non abbiamo platino, va bene, va bene, va bene. Ecco la ricompensa. Frammento di guscio deforme. Piccolo frammento del guscio di un posseduto. In grandi quantità può aumentare la salute massima di un paladino cinereo. Raccogline tre per ottenere un pezzo di guscio vigoroso. Ah, bene, 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 interessante. Non so perché. Ok. Allora possiamo sempre rigiocare per migliorare il nostro punteggio, volendo, eh. Da quello che ho capito, dalmeno, quindi, a meno che le sblocchiamo, possiamo anche lasciare lì dove stanno. Però se danno quelle ricompense. Ok, si entra ora. Vai. Vorrei salvare. Ma forse già sta salvando. Ok. Sì, perché sennò viene troppo lungo il video. Uh-oh. Oh, my God. While all life must perish, that which is immortal is bound to be reborn. Ok. But the Shaper had no hand in your creation. Uh-huh. Did he, sweet sisters? You're our observer? So the observator, eh? I am Leighton. I am here to assist you. How exactly? An observer's talents won't be of much help in this fight. Oh, I fight for the Order of the Ashen Blade in my own way. Uh-huh. My presence here is proof enough of my worth. You, on the other hand, are said to be unstable, unruly, and unwilling to follow orders. Our fame precedes us. Why did you taunt us? Your shade is speaking. And to me, how quaint. Somehow, your authority as an observer is not enough to silence her. What happened here? Uh-huh. A tear opened. Clearly. Its cause is unknown. Uh-huh. But it's the largest yet seen, and I do believe getting... Oh, it's bizarre. without the Order will be able to hide this one from the masses. And once it was open? Many were corrupted. Others were possessed. Uh-huh. They sought to the rest. The Order did not foresee it this time. That is why you were called. You and your two comrades. Ah-huh. Quindi sono altre paladine. At least the Ashenblade is bearing no effort now. Okay. Well, two chimeras. And you. Oh. So caustic. Where are the others? Strangely, those two did not wish to wait for you. C'ho è? You should hurry. Find them if you can. Okay. Don't scowl at me. I can offer powerful assistance if you do well. Okay. Then let us pray you remain safe. Indeed. May the torchbearer light your way. Ah, ma sa che dialogo. May the judge show you mercy. And may the shaper grant you fortune in this life. Okay. If that's what you can call it. E come la dobbiamo chiamare? The freight elevators will take you where you need to go. Good. Perhaps you will prove us all wrong. I will be watching. Ah, okay. Negozio. Ah, in questa schermata potrei acquistare oggetti utili. Tieni premuto X per comprare un frammento di smeraldo. Okay. Premi RB per accedere alla pagina delle abilità. Ora puoi potenziare le abilità di Briar. Premi A per selezionare Briar. Abilità di Briar. Qui puoi acquistare nuove combo e abilità per ogni arma sbloccata. Okay. Premi A per visualizzare... Okay. Assalto feroce. Tieni premuto X. Y, Y. Pausa. Y, Y, Y. Costa 2000, Ico, però. Movimento in avanti, Y. Ho fatto? E quest'altra, invece? Costa un botto. Possiamo anche... Vabbè, niente. Aspetta, possiamo mettere un'altra abilità? Allora. Questa. X più A. Già, ce l'abbiamo, però. Okay. Costano un botto. Va bene. L'hut non ci posso ancora andare. Prendiamo al negozio. Ce ne compriamo un'altra? Diciamo che ne abbiamo tre. Diciamo tre, dai. Diciamo cinque, va. Parla. Parla? Oh, no, vabbè, niente. Adesso non ci parla più. Adesso magari dopo ci riparlo, no? Perché adesso volevo chiudere il video. Sta salvando, quindi suppongo che riprenderemo da qui. Una specie di checkpoint. Allora, avventurieri. Questo qui è Solstice. Un inizio abbastanza frenetico. Interessante, interessante. Un po' particolare la telecamera fissa, che a volte non ci permette di spippolare, esplorare come si deve. E quindi può capitare magari di perdere qualcosa. Però, vabbè, anche la strada a volte non si capisce bene dove andare. Però, vabbè, alla fine ci siamo orientati alla grande. Quindi siamo riusciti ad arrivare qui al... Non so, questo posto dove c'è la breccia, non castello. È una specie di castello, non lo so. Comunque, staremo a vedere. E niente, è interessante. Magari potremmo anche giocarlo. Adesso vediamo. Però, intanto, abbiamo visto come gira con GeForce Now. Devo dire che, come al solito, è andato alla grande. Grafica tutta al massimo, chiaramente. E... E voilà. È stato divertente. È stato divertente. Anche simpatico, irriverente. Insomma. Ci sta, ci sta. Questo è Solstice. Se vi capita, lo trovate sia su Epic Store che su Steam. Dei Duco. Quindi, io l'ho... Mi è stato regalato da Epic Store. Quindi, va benissimo così. Grazie di cuore. Io vi invito sempre a lasciare un like. Iscrivervi al canale. Ovviamente, accendere la campanella se il Cloud Gaming vi piace. E, ovviamente, rimanere sintonizzati su tutti. E notificati, soprattutto, sui contenuti che arriveranno qui sul canale. Quindi, tanti, tanti, tanti gioconi. Ci conto. Grazie di cuore di nuovo. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao! 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 ! Ciao! Grazie a tutti.